musica 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 buonasera a tutti ciao ripeto questo video lo vedete dopo praticamente la cena ho fatto con i miei genitori i miei socieri ho fatto vedere la pizza adesso andiamo a mangiarla con mio marito al gainen un restaurante un restaurante di Parma giapponese sorry giapponese andiamo a festeggiare il mio compleanno da su senza mia figlia mi manca già questo è un bot che fame mi piace avevano abbandonato la macchina aspetta qua un bot che cosa fai? ah più avanti? che fai due c'era? ma è un'unità abitative vabbè oggi come oggi ci fanno 4 o 5 famiglie un di più vabbè entra una roba da vips ma che bella però vips eccolo ci sono foto di altri sono scema perché non si mette a fuoco? no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non so. Non so, non vuole dire dov'è il posto. Sarà un stoczetto. Dove sono i posti? Scusi? Potrebbe essere più di uno. Non lo sa, non lo può sapere. Andiamo al bowling? Andiamo al bowling! Che bello! Ragazzi, andiamo al bowling! Ragazzi, andiamo al bowling. Vado a perdere come se non ci fosse un domani. Quindi, se vuoi andare o... O no? Si. Ciao! 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 Noi, noi. Noi, noi.